Il club Senigallia alla Plagne, 14, ecco la pauletta di Skaia, il nostro amico Marcello ok rimangono Melchiade è partito Melchiade, è una tuta blu bene Melchiade, tecnica alla Gemignani, tecnica alla Gemignani, bravo Melchiade, è partito porca miseria ok, siamo al ritorno, siamo al ritorno dal ghiacciaio, Ciclub Senigallia